Come sapete, una delle 5 stelle del movimento è proprio quella dedicata alla mobilità sostenibile. Proprio per questo i nostri parlamentari si sono attivati per reperire a Roma delle risorse che vanno alle nostre regioni, in particolare 12 milioni di euro, di cui 2 milioni di euro circa sono destinati alla regione Lombardia. Ed è per questo che noi ci siamo attivati immediatamente con un'interpellanza regionale per chiedere all'assessore regionale ai trasporti quale programma intende mettere in campo perché queste risorse siano utilizzate. Le risorse sono destinate ai comuni, quindi è necessaria anche un'attivazione dei comuni. E a cosa servono? A realizzare o mettere in sicurezza piste ciclabili, piste cedonali o ciclopedonali e comunque effettuare tutti quegli interventi di messa in sicurezza che servono per costruire una mobilità sicura e sostenibile. Se siete consiglieri comunali, vi suggeriamo di scaricare direttamente dal nostro sito, nella pagina dedicata, l'atto che abbiamo appositamente preparato per i comuni, in modo da attivare il vostro comune presso l'assessorato regionale ai trasporti per poter intervenire nelle situazioni di messa in sicurezza che voi segnalate su piste ciclabili o ciclopedonali. Non c'è tempo da perdere perché i comuni hanno solo 5 mesi per presentare questi progetti e dunque bisogna agire, evitando che queste risorse ritornino a Roma senza essere state utilizzate.